Salve a tutti e benvenuti nel mio canale YouTube. Oggi voglio andare insieme a voi ad effettuare l'unboxing ed una piccolissima e brevissima recensione di questo prodotto. Un SSD della Samsung 850€ il modello da 250GB. Il seguente componente andrà montato sul mio nuovo PC che ho assemblato per effettuare video editing a livello professionale. Allora andiamo ad aprire la confezione insieme. Togliamo innanzitutto il sigillo che si trova qui in corrispondenza di questo piccolo QR code. Un attimo mi sposto dalla telecamera. E delicatamente con le unghie vedo di togliere questo sigillo. Allora mi sa che ci sbrichiamo prima con la forbice in questo caso. Tolto il sigillo come potete vedere possiamo aprire la confezione. Andiamo ad aprire e troveremo tutto dentro un piccolo, un altro ulteriore scatolino. La confezione è molto gradevole come possiamo vedere. Aprendo un ulteriore scatolino troviamo una sorta di busta. Togliamo questo sigillo bianco. Piano. E all'interno troviamo. Allora andiamo andando ad uscirlo piano da questo piccolo box. Ah mi sembra che sia incollato. Comunque all'interno qui possiamo trovare una guida all'installazione. Il dvd, penso ci dovrebbero essere i driver all'interno. E il sommario della garanzia, qua c'è scritto, lo stato della garanzia. Riponiamo il tutto dentro la busta ed andiamo a prendere il vero e proprio ssd. Io lo monterò nel mio nuovo computer che sto assemblando e ho deciso di mettere un ssd per il sistema operativo per avere molta più velocità nell'apertura magari del software, delle finestre, dell'accensione del computer. Allora intanto come possiamo vedere, da questa parte abbiamo la busta con tutto quello che ci riguarda, che riguarda l'hard disk, quindi il manuale di istruzioni, la garanzia e il dvd contenente ai driver. Se andiamo a girare la confezione, qui c'è un piccolo alloggio dove è inserito il nostro piccolissimo ssd da 2,5 pollici. Tiriamolo fuori. Perfetto. Questo è il nostro ssd. Come potete vedere, lo confrontiamo magari con le dimensioni del palmo di una mano. È piccolissimo veramente. Piccolissimo e velocissimo. Qua abbiamo i nostri attacchi. Ovviamente è un serialata. Bene ragazzi, per oggi è tutto. Spero che l'unboxing e il video in generale vi siano piaciuti. Potete benissimo lasciare un mi piace al video, condividere ed iscrivervi al mio canale YouTube. Grazie. Grazie.